ciao a tutti sono lo chef alessio guidi della scuola di cucina tu chef accademia del gusto e in collaborazione con le vie del gusto oggi vado a preparare dei filetti di spigola con funghi porcini all'iniziamo dagli ingredienti filetti di spigola del prezzemolo degli ottimi funghi porcini freschi vino farina sale pepe fondo vegetale e olio allora iniziamo a pulire i funghi ora mi raccomando non si lavano i funghi tantomeno i porcini quindi andiamo a pulire la terra dal gambo e andiamo a tagliarlo facciamo un soffritto con aglio e olio allora una volta pronto l'aglio andiamo ad aggiungere i nostri funghi mettiamo un po' di sale allora essendo funghi porcini freschi mi raccomando la cottura deve essere abbastanza veloce allora intanto tritiamo il nostro prezzemolo caldiamo la padella con un goccio d'olio e andiamo ad infarinare i nostri filetti di spigola mettiamo un po' di sale una macinatina di pepe abbassiamo la fiamma e andiamo a sfumare con del vino bianco una volta evaporato il vino andiamo ad aggiungere i nostri funghi e una spolverata di prezzemolo andiamo a mettere prima le spigole in modo che possiamo sistemarle poi aggiungiamo i funghi con la salsetta ricorriamo con del prezzemolo ecco qua scaloppe di spigola con funghi porcini e buon appetito